Il Tavolo Cittadino, Chioggia per la Costituzione e il Comitato Ampi di Chioggia organizzano per sabato 1 aprile dalle ore 11 la presentazione del volume Eppure il vento soffia ancora, gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, di Piero Ruzzante e Antonio Martini, edito UTET. La presentazione si terrà nell'aula magna dell'Università Popolare di Chioggia, ex scuola Principe Amedeo. Interverranno l'autore Piero Ruzzante, che fu deputato dell'Ulivo, e l'ex senatore Bruno Cazzaro. Già segretario del PC di Chioggia, modera l'incontro Enrico Veronese, giornalista del Foglio. Altre personalità politiche clodienzi interverranno dalla platea. Passa all'Indiga, a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità, per deliziare il tuo palato. Indiga, a sottomarina, ti aspetta?